Uno scuola bussa è precipitato in un burrone di circa 75 metri in India. Gravissimo il bilancio, 11 morti e 29 feriti, di cui almeno 14 in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta nei pressi del villaggio di Siyan, nella regione del Kashmir, nella catena montuosa dell'Himalaya. Secondo le autorità locali, l'incidente è avvenuto verso le 8.30 di questa mattina. E a bordo c'erano circa 36 persone, la maggior parte studenti. Tra le vittime ci sono un bambino di 5 anni, 3 adolescenti e una donna. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Iammu, nel distretto di Ponce. Non è chiaro il motivo per cui il mezzo si è andato fuori strada. Dopo il terribile impatto sul fondo del precipizio, gli abitanti locali si sono precipitati sul posto per aiutare la polizia e le squadre di soccorso nelle operazioni di salvataggio. Grazie. 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 Grazie.